suonami.it Liscio.1 presenta Top Ten, la classifica ufficiale italiana della musica da ballo, in collaborazione con Media TV, Global Communication. Anche questa settimana scopriamo subito chi si trova nelle prime dieci posizioni. Top Ten, la nuova entrata di sette giorni fa, Marianna Lanteri, Prendimi, i Rodigini, Mal d'Africa, Baby K, voglio ballare con te, Rossella Ferrari e Casanova, il canto del mar. Top Ten Ora passiamo al ballo di gruppo del mese di gennaio. Il ballo di gruppo del mese di gennaio di Liscio.1 è Sierra Sierra. Scopriamo chi si trova nelle prime 5 posizioni 5 DJ Berta Saltando Bailando 4 Mina Adriano Celentano Eva Al terzo posto c'è Omar Lambertini Non fermarmi Al secondo posto c'è Omar Codazzi Sentimento Primo posto per Bagutti Lambertini Lanteri Tarantino Benzi L'Italia siamo noi E' nata Radio Liscio 1 La radio ufficiale italiana della musica da ballo Scarica subito l'app La puoi trovare gratis per iOS e Android Radio Liscio 1 Inimitabile Appassionata Proprio come te Iniziamo Luca Marco Missiu La Mar